Una mostra che mette a confronto e in dialogo soprattutto artisti umbri e marchigiani, invitati per questa ultima esperienza di live exhibition che chiude in bellezza con una mostra che espone le opere di ben 11 artisti, di cui 6 appunto marchigiani e 5 umbri. La mostra durerà fino ad ottobre 2013 ed è un itinerario molto interessante in cui si vede la contemporaneità letta attraverso due scuole artistiche differenti ma al tempo stesso che mantengono tra di loro un livello di capacità artistica e di linguaggio estremamente elevato e soprattutto fortemente legato al contemporaneo.